Si è presentato alla festa di Halloween tenuta a scuola indossando una divisa da gerarca nazista con tanto di svastica appuntata sul petto. Il costume è stato anche premiato da una giuria interna di studenti. È successo all'English School di Padova in quartiere Forcellini. A denunciare il fatto sono state le comunità ebraiche di Padova e Venezia che hanno inviato una dura lettera oltre che al preside dell'istituto padovano Scotton Sutton Wood, anche al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e al presidente della regione Luca Zaia. Apprendiamo con estremo disappunto, si legge nella nota, che durante la festa di Halloween tenuta presso la vostra scuola un allievo si è presentato in divisa della Wehrmacht con in bella evidenza l'aquila e la svastica nazista. Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell'ambito di un istituto scolastico il cui fine principale dovrebbe essere quello dell'educazione alla civile convivenza. La direzione della scuola si è detta sconcertata per l'episodio spiegando che all'ingresso non era stato notato che quello che sembrava un costume da soldato fosse in realtà una divisa che riproduceva gli emblemi della Wehrmacht. Il preside ha ora convocato a scuola l'alunno e i suoi genitori.